Si è tenuta questa mattina a Palazzo Zimbardi una nuova seduta della Commissione Affari Generali. Tra gli argomenti all'ordine del giorno la discussione sul piano strategico. C'è la volontà politica di approvare il piano strategico entro la fine del mese. Siamo al terzo appuntamento, dopo un'illustrazione generale c'è stata l'illustrazione delle progettualità. Oggi è arrivato un documento molto importante che è quello delle progettualità e degli obiettivi dei territori, quindi di tutti quelli che sono i comuni della provincia di Milano. Il tema è centrale anche perché c'è ancora aperto il dibattito sulla divisione delle zone omogenee tra noi e Regione Lombardia che io posso trovare il più presto possibile una soluzione affinché inizi l'operatività delle zone omogenee e che ci sia la possibilità per i comuni di lavorare effettivamente su questa progettualità. Un lavoro che è stato condotto con 14 tavoli territoriali, più il lavoro condotto dai sindaci in ogni rispettiva zona con il coordinatore che era stato individuato per ogni zona omogenea. Quindi stiamo facendo i diversi passaggi sulle diverse parti che compongono il piano. Il 17 di marzo è previsto che si tenga un'ulteriore seduta della Commissione che il Presidente ha già calendarizzato dove prenderemo in esame altre parti del piano, la parte della vision, in modo da poi giungere nel giro di poche settimane tra la fine del mese e l'inizio di aprile a poter portare in consiglio, in discussione e in votazione il piano strategico nel suo complesso. Grazie a tutti.